Sabato giochiamo contro New Volley Adda, una squadra sicuramente di vertice. Sarà una partita complicata su un campo difficile. Noi dovremo essere brave a riportare in campo tutti gli aspetti positivi delle ultime partite. Ci stiamo allenando bene durante la settimana e vi aspettiamo a fare il tifo per noi.